Dopo la disamina fatta su Postepay Evolution e sul libretto postale è arrivato il momento di mettere sotto i riflettori proprio lui, il conto corrente e banco posta. Ci tengo a dire che non ho nulla contro poste italiane, ma un po' mi sento preso in giro. Da essere umano pensante che fa quanto basta le verifiche per capire il prodotto che ho davanti, devo dire che c'è da mettersi le mani nei capelli, non vi spoilerò nulla, iniziamo con il video perché sarà bello lungo. Amici, benvenuti nella terza puntata della serie dedicata ai prodotti postali. Io sono Don Maglio e come avrete capito oggi parleremo del conto corrente e banco posta. Come sempre per le mie recensioni partiamo dalla cosa per me più importante, la sicurezza. Il conto corrente e banco posta non è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, poiché Poste Italiane non è una banca. Banco posta, non potendosi affidare al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, non garantisce i nostri averi. Il fatto però che banco posta sia controllata dallo Stato italiano al 100% prima della quotazione in borsa e come socio di maggioranza poi, costituisce di per sé una garanzia implicita per tutti i correntisti. Possiamo quindi stare sicuri? Beh, io non posso essere sicuro al 100% anche perché anche le più grandi aziende potenzialmente potrebbero fallire, però per la situazione attuale, visto che c'è di mezzo implicitamente la garanzia dello Stato, possiamo stare dal mio punto di vista più che sicuri. Ovviamente sto parlando solo ed esclusivamente del conto corrente e banco posta. Per quanto riguarda libretti e altri strumenti, lì c'è la garanzia proprio dello Stato. Esistono diverse tipologie di conto corrente e banco posta che si differenziano in base all'utilizzo e al prezzo. In questo video prenderemo come esempio il conto corrente e banco posta denominato Start, che è il primo di tre, quindi quello base che ha un costo più basso. Sul fatto che costi poco e che abbia un prezzo basso assolutamente non è così, ma lo vedremo fra qualche minuto. Le operazioni base, quale? Bonifico, bonifico istantaneo, pagamento di bollettini, ricariche telefoniche, ricariche, alle poste pay, quelle base. Ci sono ovviamente tutte e vorrei ben vedere, visto il prezzo spropositato mensile di questo conto corrente. Oltre a queste caratteristiche base, però, troviamo altre opzioni che vanno a completare il pacchetto generale. Potremmo richiedere ad esempio un fido sul nostro conto corrente, suddiviso in tre scaglioni che partono da 1.500 euro fino ad arrivare a 5.000 euro, con un costo che va rispettivamente dai 3,75 euro ai 6,25 euro ogni trimestre. Inoltre sarà possibile richiedere un carnet da 10 assegni che sarà gratuito qualora venga richiesto una volta all'anno, altrimenti avrà un costo di 3 euro per i successivi carnet di assegni che chiederemo all'interno dello stesso anno. Ad ampliare e rendere ancora più completa l'esperienza presso poste italiane, ovviamente ci sarà la possibilità di chiedere mutui, di chiedere prestiti, di fare investimenti che, mamma mia, assolutamente vi consiglio di non prendere in considerazione, perché i prezzi sono folli. Ovviamente il libretto postale che abbiamo visto in questa recensione, le carte prepagate o le carte prepagate con Ipen che abbiamo visto in quest'altra recensione, per non parlare poi delle migliaia di ore in fila nelle migliaia di filiali sparse in tutta Italia. A tal proposito, per migliorare le estenuanti code in fila presso le filiali, Poste Italiane ha implementato la prenotazione online, vi basterà infatti selezionare la filiale di appartenenza, l'orario e verrete chiamati allo sportello più velocemente. Il tutto ovviamente direttamente dalla vostra app BancoPosta. E a tal proposito, parlando proprio di app BancoPosta, devo dire che quest'ultima è stata migliorata abbastanza decentemente negli ultimi anni. Nella schermata principale troverete i prodotti di cui siete in possesso e tutta una serie di operazioni veloci da poter effettuare. Per quanto riguarda il menu, da segnalare la possibilità di aprire o gestire un libretto postale o eventuali buoni fruttiferi postali. Richiedere un appuntamento con il vostro consulente finanziario o personale e tutta una serie di informazioni che possono più o meno tornare utili. Bene ragazzi, da questo momento in poi del video, seguitemi con estrema attenzione perché stiamo parlando della parte più importante, i costi di questo benedetto conto corrente. L'offerta poste italiana, relativa ai propri conti, è composta da 4 conti correnti che differiscono per prezzo mensile e profilo del correntista. Il più economico è quello riservato agli under 30, che è un costo mensile di 2 euro per quanto riguarda la gestione del conto. Le spese vive, invece, che vedremo adesso nel dettaglio, fanno parte di tutti i conti correnti a prescindere da quale scegliete. Tralasciando quindi il conto under 30, il conto denominato Start, è il più economico che possiate sottoscrivere. Il conto Start, appunto, ha un costo di 6 euro mensili, seguito dal conto Medium e dal conto Plus, che costano rispettivamente 7 e 9 euro mensili. Prezzi folli, starei pensando, assolutamente sì, ma BancoPosta mette la possibilità di abbassare e in alcuni casi azzerare queste spese. Le vedremo nell'ultimo punto. Ponendo però per ipotesi che i costi che abbiamo visto non siano folli ma, tutto sommato, accessibili, comunque l'errore di avere un conto corrente postale sta nei costi vivi che affronterete tutti i santi giorni. Tutto quello che abbiamo visto in precedenza nel punto relativo alle funzioni, beh, sappiate che è a pagamento. Ricariche telefoniche, pagamento di bollettini, bonifici, sono assolutamente tutti a pagamento. La cosa più sconcertante per quanto mi riguarda è che è a pagamento anche la ricarica della Postepay, quella gialla, quella senza IBAN. Se mi conoscete sapete come io odio i costi di prelievo agli ATM, ma mi sono accorto che un'altra cosa che mi fa andare ancora più fuori di testa è il costo per i bonifici. Fare un bonifico col tuo conto corrente BancoPosta costerà un euro se lo fai dall'applicazione e ben 3,50 euro se fatto allo sportello. Per quanto riguarda i prelievi alle ATM saranno gratuiti se fatti presso ATM di poste italiane e avranno un costo di 1,75 euro per tutti gli altri. La gestione della carta di debito BancoPosta in realtà mi è piaciuta un po' di più. Quella che vedete in video ovviamente è una vecchia carta di debito di BancoPosta e ad oggi questa carta è compresa con l'apertura del conto corrente quindi è a costo zero e anche in caso di furto, smarrimento o scadenza della stessa verrà riemessa senza nessun tipo di costo. L'unico punto negativo a mio parere è che per la attivazione e la riattivazione eventuale di questa carta dovrete necessariamente recarvi presso uno sportello e quindi con un operatore o al postamat anche se in alcuni casi c'è da dire ci sarà la possibilità di riattivarla dall'app direttamente. Come detto, Poste Italiane non è una banca quindi per quanto riguarda le proprie carte di credito si affida a Deutsche Bank. Le carte di credito richiedibili sono fondamentalmente due e differiscono fra di loro in base al plafon a disposizione. La classica ha un fido iniziale di 1600 euro e ha un costo di 44 euro all'anno. La carta oro invece ha un fido iniziale di 5200 euro e ha un costo di 70 euro all'anno. Per completezza però di informazioni qualora andiate sul sito di Poste Italiane troverete una terza carta di credito denominata BancoPosta Plus della quale però sono andato a guardare il prospetto informativo ed è emessa da Compass. Al momento però non sarà possibile richiederla e il costo era di 37 euro all'anno. Come fare per eliminare del tutto questi costi o almeno in parte? Visti i super prezzi dei conti correnti BancoPosta che evidentemente non hanno nulla di speciale rispetto ad altri conti correnti vengono messe in atto tutta una serie di possibilità che ci aiutano a scendere con questi costi. Ovviamente sarà possibile scendere con i costi di gestione del conto non relativa alle operazioni quali bonifico, ricariche eccetera eccetera attenzione. Vedremo cosa ci consiglia di fare a tal proposito proprio il sito di Poste Italiane ma prima è importantissimo farvi sapere che Poste Italiane per tutte quelle persone o nuclei familiari che hanno un ISE molto basso adegua fino ad eliminare del tutto i costi di gestione del conto corrente. Meglio di niente direte voi ma qui mi sorge spontanea una domanda perché allora andare alle poste se abbiamo la possibilità di evitare tutto questo sbatti sottoscrivendo ad esempio Carta Hype che è fantastica e super completa e a canone zero. Troverete qui la recensione se volete approfondire. Tornando a noi come vedete questa è la pagina riepilogativa dell'offerta a banco posta e come sempre prenderemo in esame il nostro adorato conto Start che parte da un fisso abbiamo detto di 6 euro. Come potete vedere possiamo risparmiare 2 euro se accreditiamo lo stipendio e 1 euro se il vostro patrimonio è inferiore a 5.000 euro. Attenzione però perché ovviamente non è specificato ma questo patrimonio netto non si riferisce ai vostri risparmi che avete accumulato nella vostra vita. Si parla infatti del questionario Mifid in tema di investimenti finanziari e quindi i 5.000 euro si riferiscono al patrimonio investito. Ho notato in questo sito una costante fatemi sapere se ve ne eravate accorti anche voi e cosa ne pensate se è fatta apposta o meno. La dispersione di questo sito è assoluta come vedete qui ci sono gli asterischi che ci portano a una nota a piedi pagina per approfondire proprio l'argomento. Ovviamente non tutti conoscono la direttiva Mifide a cosa serva e giustamente veniamo rimandati all'approfondimento. Ovviamente di approfondimento non ce n'è la benché minima traccia ma addirittura veniamo rimandati a un'altra pagina che dobbiamo ovviamente cercare noi a mano poiché non c'è dentro neanche un link dove ci sono centinaia di fogli illustrativi tra cui scegliere. Vi giuro che non sono riuscito neanche io a trovarla in mezzo a questo po' po' di link mi sono dovuto prendere la briga di fare una ricerca a manina proprio su Google e ho trovato questo link che vi lascio ovviamente in descrizione che però non è assolutamente facile da leggere persino per me che faccio questo lavoro e che investo da diversi anni. Questi due euro quindi non saranno sicuramente uno sconto alla portata di tutti. La terza ed ultima opzione per cercare quantomeno di abbassare il costo di questo conto corrente è il terzo punto che come vedete ha come prerogativa quella di essere proprietario di partita IVA ed avere il conto corrente business di poste italiane banco posta link un conto corrente che costa 12 euro al mese che non è tutto questo granché di conto business ma che se ci pensate va ad annullare poi il risparmio effettivo di questo prodotto ora alzi la mano chi pensa che la maggior parte dei consumatori di poste italiane faccia questa tipologia di verifiche o ancora di più alzi la mano chi pensa che un operatore in fase di stipula vi vada a dettagliare così nello specifico tutti questi punti ma quindi questo conto corrente è da mettere totalmente alla gogna con educazione ovviamente mi piacerebbe sapere la tua esperienza in merito e cosa ne pensi di questo conto corrente fammelo sapere giù nei commenti se ti sei perso gli episodi precedenti ti lascio qui la prima e la seconda puntata e come al solito grazie per aver guardato ciao giovani